I carabinieri delle stazioni di Alcamo e di Castelvetrano hanno svolto nei giorni scorsi una serie di accertamenti con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani. In particolare ad Alcamo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 60 anni, socio amministratore di una ditta edile, per presunte violazioni delle norme in materia di antinfortunistica. In particolare durante l'ispezione presso un cantiere precedentemente segnalato dal nono nucleo elicotteri carabinieri di Palermo durante la propria attività ricognitiva, i carabinieri hanno riscontrato che le aperture in quota, così come le andatoie e le passerelle, sarebbero state sprovviste di parapetti e di altri sistemi atti a evitare eventuali cadute. Nella stessa circostanza sono state elevate contravenzioni pari a 5.000 euro. A Castelvetrano i carabinieri hanno deferito altrettante persone, legali rappresentanti di società edili che operano nel territorio, in quanto ritenuti presunti responsabili a vario titolo di gravi carenze nelle misure di sicurezza. Queste le omissioni rilevate dai carabinieri, non aver sottoposto i propri lavoratori alle prescritte visite mediche preventive, non aver ancorato il punteggio metallico alla struttura esistente, non aver informato e addestrato correttamente il personale dipendente circa i rischi connessi l'attività da svolgere, e non avere dotato i ponteggi metallici in uso per le lavorazioni in quota dei sistemi atti a limitare i rischi di caduta. Per tali violazioni sono state contestate inoltre contravenzioni per complessivi 9.600 euro circa. Nella circostanza a due società di Castelvetrano è stata contestata anche la cosiddetta maxisanzione lavoro nero per complessivi 13.400 euro e con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto ciascuna aveva occupato un lavoratore in nero. Di questi, tra l'altro, uno percepiva il reddito di cittadinanza.